ciao allora dunque spero che siate pronte perché in questo video ho leggermente svaliggiato adesso ve lo mostro se la conoscete Glossip è sempre della marca della bottega verde fa prodotti per il make up e per la cura della pelle comunque sia sì ok però devo dire che ci sono delle super 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 promozioni soprattutto con i saldi nel periodo estivo oltretutto avevo delle promozioni quindi ho pagato ancora meno ma adesso vi mostro perché comunque sia e i prodotti che ho preso li voglio testare con voi quindi mi direte voi quale volete quale mi intriga di più quale vi incuriosisce quale volete che proprio prima oltre a questo spero che non si senta troppo rumore perché sta arrivando il temporale quindi ci sono i tuoni vediamo se gira lontano e fa umidità oppure se rinfresca un po' ma adesso comunque sia tiro fuori le cose ah ovviamente scontrino alla mano diciamo che tiro fuori tutto e ve lo mostro prima potevo farlo prima che dico allora potevo farlo prima? no facciamolo in diretta che è più bello allora vediamo ci siamo ho finito allora omaggi prima di tutto crema corpo alla menta latte dopo sole a rapido assorbimento sol latte solare protezione 30 goji perfect trattamento viso antirughe intensivo notte e barberia toscana shampoo doccia air body wash penso che sia per l'uomo e questi erano i campioni poi andiamo omaggio omaggio il bagno doccia al cocco questo qui da 50 ml che sa proprio di cocco questo wow e altro omaggio eccolo qua è l'estratto di bellezza gel scrub detergente ideale per l'uso quotidiano pelli da normali a grasse con il pompe in morosa e questo è un 100 ml proviamo anche questo comunque provo tutto poi iniziamo con scontrino e vi faccio vedere dunque allora l'unico prodotto bottega verde è questo che è l'idravita trattamento lift antirughe con tornocchie palpebre effetto lifting 15 ml prezzo pieno 28 euro e 99 io l'ho pagato sto guardando inizia idravita 7 euro e 61 ah bella la confezione questo qui quindi con la pompetta credo che sia interessante ovviamente questo lo testo perché sono sempre la ricerca di contorni occhi poi dopo e altro palotto dalla bottega verde è questo che ho preso super super scontato perché l'ho pagato 0,88 ed è il bagno doccia al tiare confezione da 50 ml classico al tiare fresco ed è per l'estate va bene 88 centesimi ci sta e ora partiamo con le cose di Glossip allora Glossip che è questo marchio qui dice di essere Glossip Milano è la linea un po' credo meno costosa di Bottega Verde allora partiamo con partiamo con questo che è il Face Smoothing Base Opacizzante Levigante e confezione aspettate modo d'uso stendere sul viso e massaggiare fino a proprio l'assorbimento sì pensavo di dicessi qualcosa in più base mattificante va bene ok quantità 15 ml prezzo prezzo pieno sarebbe 12 euro e 90 ma io la base mattificante 6 euro e 12 ed è questo qui ah trasparente allora la texture è setosissima e adesso io sono curiosa subitissimo di andare a vedere l'inci perché non l'ho guardato non mi interessava volevo testare un prodotto e adesso la guardiamo con voi di meticone ovviamente è a base di silicone quindi l'inci sicuramente non è il massimo ma per essere così setosa doveva per forza avercelo dentro e questo lo proviamo poi veniamo ai fondotinta perché ne ho presi ben tre allora partiamo con il matte foundation long wear quindi fondotinta effetto matte opacizzante lunga durata 30 ml prezzo pieno 9 euro e 90 sto guardando qui il long wear opacizzante opacizzante lunga durata ah eccolo è 3 euro e 06 ho preso il colore 02 perché era l'unico che c'era quindi io mi auguro che vada bene allora stendere su viso e collo ma va genio questo qui io sono la larici molto molto naturale il colore non è male vedete che non si vede neanche sulla mano molto molto naturale bisogna vedere se alla fine con la mia pelle mista tendente a grasso che io che mi trucco tutti i giorni questo può essere un fondotinta proviamo poi andiamo avanti e andiamo avanti con questo qui allora no transfer long lasting foundation fondotinta lunga durata no transfer sto cercando la quantità che ho il 30 ml prezzo pieno 14 euro e 90 il no transfer l'ho pagato 6 euro e 99 ho preso il colore 09 bellissimo la confezione questa qui dice di agitare prima dell'uso e noi agitiamo prima dell'uso poi ah la pompetta classica adesso non voglio usare la pompetta prendiamola così che non volevo questo è molto profumato prima cosa che vi devo dire è molto profumato non il fondotinta profumato comunque questo qui allora il colore si stende bene è tendente a rosa dallo swatch non mi sembrava ma è più tendente a rosa sì ok con la spugnetta in inverno comunque leggero cioè per essere un no transfer puoi la provare durante il giorno ma per adesso così primo impatto leggero poi ultimo fondotinta è questo questo è l'ultra fine extra old water resistant allora fondotinta impalpabile extra tenuta resistente all'acqua allora le quantità qua sono tremende comunque un 30 ml il colore che ho preso io lo dico dopo 30 ml l'ho pagato resistente 6 euro e 12 il colore è lo 07 peach cool è lo 07 da vedere che mi sono sbagliata allora scusate la questo qui la confezione è scurissimo scurissimo è scurissimo come ho potuto sbagliare così anche se steso aspettate un secondo una volta steso qui e lo avete visto è sparito? no devo fare un altro test subito va bene effetti impalpabile ma è sparito dove lo mettiamo? allora ok scurissimo sparisce questo è interessante cioè sparisce sembra scuro 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 poi sparisce da testare questo subito subitissimo ultimo prodotto e questo qua non potevo non prenderla questa è la cipria compatta mattifing power cipria compatta effetto matt 10 grammi prezzo 14,90 io l'ho pagata 3,06 non potevo lasciarla lì no allora questa qui così se riesco ad aprirla senza che mi parta scusate c'è un trucco che io non so per aprire questa cipria specchietto e la cipria è questa che dovrebbe essere bianca vista così potrebbe fare flashback ma però dovrebbe essere anche pacifante allora dunque questi intanto erano tutti i prodotti che facendo due conti facciamo i conti assieme facciamo i conti assieme dai allora fatti i conti alla mano 68,50 di prodotti e non ho incluso no perché 68,50 ci devo mettere anche questo ho dimenticato l'idravita 68,50 più abbiamo detto 28,99 97,49 ok e non ho messo nel prezzo questo perché non so quanto verrebbe a prezzo pieno quanto verrebbe a prezzo pieno però l'ho pagato 88,00 quindi va bene facciamo una cosa del genere io invece ho pagato 35,15 euro però avevo uno sconto di 10 euro per il compleanno però avevo uno sconto di 5 euro quindi l'ho pagato 20,15 euro tutto direi che è interessante per testare tutti i prodotti allora l'idravita sicuramente è quello che testerò per prima perché io sono semplice che lo contorno occhi poi fatemi sapere quale di questi fondotint vi interessa di più allora questo qui che è quello water resistant oppure il long lasting oppure l'effetto matte alla fine comunque sia lì proverò tutti e tre quindi prima o poi la recensione ci sarà sicuramente fatemi sapere anche se voi conoscevate il marchio glossi perché nel negozio della mella bottega verde c'è ma c'è solo in alcune occasioni quindi con le novità c'è oppure stavo testando effettivamente tra le sudura bello liscio allora c'è sempre solo con o le novità con i nuovi lanci oppure con i prodotti in promozione se no per le edizioni natalizie oppure le edizioni estiva che c'erano i prodotti con i saldi se no non è facile trovare i prodotti mi hanno detto che c'è uno store online ma non ho guardato perché sul sito di bottega verde ufficiale non ho trovato i prodotti glossip mi hanno detto che c'è un negozio proprio glossip.it o punto com non mi ricordo potrei informarmi meglio prima di dirvi il video ma magari ve lo scrivo qui è stato l'info box e comunque fatemi sapere da quale prodotto volete che iniziamo a prestare il test se vi è piaciuto il video mettete il mio like iscrivetevi al canale mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisati ogni volta che carico un nuovo video e alla prossima ciao ciao